ecco i prossimi due premi inerenti ai game award abbiamo il premio sull'interpretazione dove sei contendenti verranno nominati per la loro bravura nell'interpretare un personaggio importante all'interno dei videogiochi il secondo premio è sulla narrativa dove cinque giochi sono in nomination per la miglior storia e qui abbiamo ottimi giochi che si contendono il premio iniziamo che ne dite il primo concorrente è ben star 35 anni attore inglese visto in film famosi come survivor edick sign e ora si contende il premio per la sua interpretazione come clive rossfield il protagonista del nuovo gioco targato square enix final fantasy 16 l'attore nella parte riesce a si degno di portare la cappa del protagonista postrando determinazione emotività nel personaggio il prossimo è un nome conosciuto e ha già interpretato una volta protagonista in questa enorme saga parliamo di cameron monoghan 30 anni americano già visto come antagonista nel telefilm gotham dove mostrava un joker psicopatico e carismatico questa volta cameron ritorna a vestire i panni di cal castys protagonista di star wars jeddy fallen order e ora protagonista di jeddy survivor cameron mostra determinazione sia nei movimenti sia nel doppiaggio portando sul nostro schermo un jeddy combattivo e pronto per portarci in nuove avventure la nella galassia lontana lontana passiamo un grande nome nel mondo di hollywood visto in fast and furious suicide squad pacifiche rim e in alcuni film della marvel stiamo parlando di idris elba 51 anni che questa volta presta il suo corpo e voce nel mondo videoludico portando solomon reed nuovo personaggio chiave nel mondo dei cyberpunk 2077 nel dlc phantom liberty non c'è bisogno di spiegare troppo ma qui idris mostra ancora una volta le sue doti artistiche creando un nuovo personaggio chiave insieme che hanno ris nel mondo futuristico e distopico di cyberpunk un'altra stella della televisione si presta nel mondo videoludico passando da parti terziarie o secondarie in telefilm come il trono di spade o dark matter diventando protagonista nella nuova opera remedy melanie liburde 36 anni inglese da corpo anima e voce alla nuova protagonista di alan wake 2 saga anderson la sua performance agguerrita emotiva mostra melanie e le sue doti interpretative sotto una luce nuova abbagliante mostrando a tutti le sue abilità di interpretazione passiamo ora a qualcuno che ci vive a sé comodamente nel mondo del doppiaggio videoludico neil newborn 45 anni inglese ha già interpretato moltissimi personaggi nel mondo videoludico da detroit become human dove interpreta non solo uno ma due personaggi passando a resident evil village interpretando carl heisenberg ora però il suo lavoro si fa un po più complicato e forse anche un po più divertente andando a interpretare un personaggio intrigante egocentrico e affascinante astario che andrà a seguire le gesta del o dei protagonisti in baldurus gay 3 divertente carismatica e molto chiacchierone neil da un'interpretazione sublime sia per i movimenti facciali ma anche per il doppiaggio in sé creando un personaggio che moltissimi ora come ora stanno amando fino allo sfinimento altro personaggio anche questo che viene dal mondo videoludico ma con un bel curriculum molto più grande yuri lowenthal 52 anni visto in moltissimi cartoni come ben 10 dove doppia il protagonista naruto o code gears oppure nell'ambito videoludico visto in prince of persia dove doppia il protagonista stesso in saints rove e in marvel spider-man 2 interpretando peter parker cosa possiamo dire su di lui se non che è peter parker no seriamente lui ha interpretato peter parker in molte altre opere nell'ambito videoludico quindi chi meglio di chi conosce il personaggio può continuare a interpretarlo secondo voi chi potrebbe vincere tra questi fatemelo sapere sotto i commenti ora parliamo di narrativa o di come la storia un grande impatto nei videogiochi e vediamo assieme i cinque concorrenti in gara alan wake 2 è uscito da poco e già sta facendo passi da gigante 15 anni dopo il capitolo precedente remedy torna a raccontare la storia dello scrittore maledetto passando da un thriller che era nel vecchio capitolo ad un vero e proprio survival horror contratti psicologici la trama è originale ben scritta con momenti fuori di testa quindi nell'ambito videoludico ala wake 2 merita di stare tra questi premi il secondo gioco è un'altra sorpresa baldur skate 3 un gioco enorme ben curato e con una storia e una sottostoria incredibile e degna di una campagna di dungeon and dragon la storia viene ben formata dalle scelte giocatore arrivando a cambiare laddove il protagonista cambia anche solo una virgola il che è incredibile richiede un grande lavoro di sceneggiatura e regia quindi la nomination di questo gioco è assai apprezzata ora passiamo a un dlc sulla bocca di tutti che cambia completamente il mondo di gioco di cyberpunk 2077 phantom liberty con questo dlc e la patch 2.0 cyberpunk si fa più interessante e la storia molto più sublime e accattivante con scene nuove e fuori di testa personaggi carismatici e azione la ogni dove ottima giunta nelle nomination di quest'anno siamo arrivati al capitolo 16 ma l'immaginazione ancora non è finita final fantasy torna con una storia ancora più emozionante e piena di avventura con nuovi protagonisti nuova imitazione e nuovi modi per raccontare la storia dei personaggi square enix vuole provare a portarsi il premio a casa sa se ce la farà ultimo nella nostra selezione ma assai importante in questi ultimi mesi è marvel spider man 2 dopo spider man 1 e maes morales la msoniac torna a farci rivivere l'avventura dei due spara ragnatele targati sony la quale ora hanno molti più nemici da combattere molti più traumi ma soprattutto molta più storia raccontata in maniera azionistica ma anche emotiva queste sono le cinque nomination ma quale fra queste vincerà scrivete pure i vostri pensieri qui sotto nei commenti e ricordatevi di lasciare un mi piace se questa tipologia di video vi aggrada